Meno presenze turistiche quest'anno in Calabria, Federalberghi lancia l'allarme della crisi e dice che il risultato negativo si è registrato nonostante la regione abbia speso 9,2 miliardi per la promozione turistica sul pianeta. Dall'altro lato ci sono però i dati degli arrivi sui voli internazionali registrati come sempre da ASA Aeroporti Confindustria alla Mezzia, da aprile a luglio circa 300.000 Dove sono finiti tutti questi turisti? E questo è il punto di domanda. Alcuni nei villaggi e negli hotel sono stati registrati e inseriti nelle statistiche nazionali. Chi invece ha scelto di passare le vacanze in Calabria in seconde case vuote e prese in affitto in stanze di appartamenti abitati e con quelle sistemazioni precarie e low cost che solo smanettando su internet si possono trovare non è incluso in alcuna statistica. E chi ha intascato i soldi degli affitti si guarda bene dal segnalarli non pagando tasse di nessun tipo. Il fenomeno degli affitti brevi e globale, anche il turismo è cambiato con l'avvento del web e forse sarebbe il caso di riconsiderare i dati ufficiali su arrivi e partenze per le vacanze.